Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Operazione antifrode della Guardia di Finanza di Napoli. 10 milioni di euro in sequestri, 12 arresti. Grazie all'azione congiunta con Icwerf. Le autorità sono riuscite a individuare e neutralizzare, una rete criminale che operava nel settore agroalimentare e delle bevande alcoliche contribuendo così a proteggere il pubblico dai prodotti illegali e dannosi. La Guardia di Finanza di Napoli ha condotto un'importante operazione contro il contrabbando di prodotti alcolici. La contraffazione, l'adulterazione e la frode agroalimentare, la ricettazione e l'autoriciclaggio. L'operazione è stata eseguita in cooperazione con Icwerf e ha portato all'adozione di misure cautelari personali nei confronti di 12 soggetti. Il valore dei sequestri è stato di oltre 10 milioni di euro e hanno riguardato una vasta gamma di prodotti illegali. Tra cui alcolici contraffatti, prodotti agroalimentari adulterati e denaro riciclato. L'operazione è il risultato di una lunga indagine della Guardia di Finanza, che ha visto il coinvolgimento di numerose agenzie di contrasto e il supporto delle autorità giudiziarie. Questa operazione dimostra ancora una volta l'importanza della cooperazione tra agenzie di contrasto e delle indagini a lungo termine per sconfiggere il crimine organizzato. Gli arresti e i sequestri hanno mandato un forte messaggio ai criminali che cercano di profittare dal commercio illegale.